Cari amici di NotarescoNelCuore.it, bentornati. Siamo di fronte a Nino Di Crescenzo. Benvenuto Nino. Grazie. Qual è il tuo ruolo a Notaresco? Sono il tabaccaio del paese, lo sanno tutti. Ho questo ruolo ormai da 8 anni ed è comunque una direzione di famiglia. Quindi sono 30 anni che abbiamo questo ruolo. Ti piace svolgere questa attività? Devo dire che il tabaccaio è in un paese piccolo, soprattutto un centro servizi ed anche un centro di incontro per molte persone. Quindi sicuramente un bel lavoro. Una domanda. Qual sarà il progetto, il futuro di questa attività a Notaresco? Allora, il futuro diciamo che abbiamo incentrato molto sui servizi che però sono oramai esautorati, ovvero tutti quelli che servivano in tabaccheria li troviamo al giorno d'oggi. Ci sarà un successivo sviluppo per quanto riguarda il pagamento delle utenze. Attualmente sono possibili soltanto in posta e soltanto negli orari mattutini. Più in là nel tempo abiliteremo un terminale che permetterà di pagare qualsiasi utenza a qualsiasi ora e qualsiasi giorno della settimana. Benissimo. Quindi sarà un centro di aggregazione la tua attività, questo tuo negozio. Non solo tabacchi, sali e tabacchi, ma anche centro di aggregazione per tutti i giovani e per tutti coloro che pagheranno le bollette. Io mi auguro che diventi questo anche perché credo ci sia bisogno anche di un altro posto in cui poter pagare qualsiasi ora o anche nei festivi quando uno dimentica di pagare nei giorni feriali. Quindi massima disponibilità di Nino Di Crescenzo qui a Notaresco. Velocemente se vuoi dire giusto le ultime due parole. Ma niente, non ho altro da dire, ci prestiamo ad affrontare l'estate, oggi fa abbastanza caldo, questo mi vuole dire in questo momento. Benissimo, quindi buona estate a te Nino Di Crescenzo e grazie. Grazie mille.